Benvenuti a questa occasione per noi Monelli della Motta eccezionale in cui ricordiamo il nostro carissimo Angelo Monti. Come sapete ha avuto una tradizione di impegno sociale e culturale a Varese, è stato l'animatore dei Monelli della Motta per oltre mezzo secolo e quest'anno per la prima volta vediamo la sua mancanza in presenza. Lo sentiamo però comunque sempre molto a noi vicino, lo ricordiamo con grande piacere. Devo ringraziare l'amministrazione civica che ha accolto il suggerimento, l'indicazione che peraltro credo che fosse già nel loro animo anche di dedicare alla memoria di Angelo Monti questo tratto della via Montalbano. Lo ricordo sempre con il suo vocione che metteva anche tanta simpatia e tanta tenerezza e che era sempre indirizzato anche a suggerimenti, a consigli, a raccomandazioni ma anche a riferimenti di carattere culturale. Non possiamo infatti dimenticarci come avesse sempre la volontà di concludere i suoi interventi o con una frase in latino o con una citazione dei classici.